Bentrovati a questo spazio dedicato ad una intervista che arriva, possiamo dire un'intervista esclusiva perché è la prima volta che l'onorevole Giovanni Cafeo parla da leghista. La mia presenza come segretario provinciale della Sostampa, un po' così a rappresentare tutti i colleghi giornalisti della provincia per porre alcune domande a Giovanni Cafeo che non c'è stata questa conferenza stampa, è stata l'ufficializzazione, la benedizione di Matteo Salvini è arrivata con una nota ufficiale. Prima domanda, voi politici ci avete tolto negli anni un po' il piacere della sorpresa che è riuscito ormai a non sorprenderci più di nulla. Devo essere sincero, nel momento in cui sono cominciate ad uscire fuori le prime indiscrezioni visto che viviamo un periodo di fake, ho pensato che fosse, come dice il filosofo americano, una delle classiche bullshit una delle stronzate che girano in rete. E invece, eccoci qua. Sì, intanto io ti ringrazio e tu mi conosci e sai che sicuramente non è stata una scelta fatta a cuor leggero e ne è una scelta che non tiene conto appunto di difficoltà di lettura dei cittadini e del territorio perché gli ultimi dieci anni di politica, da odici anni di politica li ho passati nel PD che ho lasciato a malincuore perché non era più il PD del 2007 e c'era questa deriva nei confronti di questo abbraccio con i 5 Stelle e con una politica che io non condividevo più. E quindi ho scelto di seguire il progetto che più rappresentava il mio ideale politico che era il progetto di Renzi nella consapevolezza che avevo fatto una scelta difficile una scelta diciamo che con il rischio e il seggio, un progetto da costruire e quant'altro. E mi sono trovato, devo dire, in un limbo nel senso che le vicissitudini, la pandemia e tutta una serie di comportamenti anche della sinistra mi hanno fatto vivere male questa esperienza è male anche prendere in considerazione il fatto di ritornare nella sinistra quindi secondo me la vera notizia non è il caffèo che passa la Lega ma è il caffèo che passa nel centrodestra un centrodestra che comunque io da deputato eletto se chi ha seguito la politica lo sa, pure se sempre all'opposizione ho provato a dare valore, a cercare di far dialogare il territorio con il Presidente Busumesci abbiamo fatto diverse iniziative, c'è stato un lavoro di opposizione responsabile che guardava sempre al territorio in cui abbiamo avuto una notevole difficoltà per cui mi sono ritrovato a dover fare una scelta non avendo molte scelte in effetti se guardi il quadro perché quello che i cittadini guardano con difficoltà è il contesto in cui avviene questo tipo di scelta noi siamo in un momento storico in cui la politica è debole e arrogante in cui ringrazio Renzi di aver fatto il governo Draghi in maniera tale da poter affrontare con più serietà diciamo le vicissitudini che stiamo affrontando e che sono difficili e in cui gli schemi sono saltati tutti e in cui vediamo noi un dibattito che è più teso a dimostrare l'esistenza in vita e a caratterizzarsi sempre di più su temi ideologici per una difficoltà di mettere in campo una proposta però non puoi negare che passi al centro-destra però proprio la Lega ti spiego perché la Lega è anche un passaggio un po' culturale adesso spiegarlo io leggevo un po' quando c'è stato il passaggio di Vinciullo alla Lega si è detto che alcuni dei suoi fedelissimi lo hanno mollato lo hanno lasciato tu non temi che possa avvenire anche con te che qualcuno possa non credere a questo passaggio io ho la certezza che questo verrà che per questa scelta politica molti amici che spero che mi resteranno amici non mi seguiranno ho messo però la scelta di passare nel centro-destra e di a prescindere di quello che succederà alle prossime elezioni comunque provare a lavorare oggi a dare dignità oggi al mio ruolo la Lega oltre a essere il partito meno coinvolto nel governo musumeci che sicuramente io sono stato un oppositore e non sono sicuramente contento dell'operato su molti temi anche riguardanti il nostro territorio però se mi fermo a guardare quella che è l'evoluzione come ho fatto da consigliere provinciale della democrazia cristiana perché io nel 2003 sono stato eletto consigliere provinciale della democrazia cristiana e ho scelto di entrare nel partito democratico perché vedevo un'evoluzione politica che mi piaceva oggi guardo un'evoluzione politica diversa da quella ma non c'è dubbio che quello che noi stiamo assistendo è un riposizionamento della Lega perché a differenza della Meloni con cui non potrei mai andare sostiene il governo Draghi e sarà inevitabile Qual è la differenza tra questi due esponenti del centro-destra? La Meloni non sostiene il governo Draghi per me non è una posizione differente e pure se oggi se tu guardi il linguaggio utilizzato da Meloni e da Selvini si rincorrono un po' diciamo come tipo di linguaggio ma il linguaggio di Selvini dal momento in cui ha scelto di assumersi la responsabilità e sostenere il governo Draghi ha avviato un processo politico che ha i suoi tempi Forza Italia è federata con la Lega noi con l'Italia, con il Dilupi quindi Saverio Romano in Sicilia è federato con la Lega l'Udc è federato con la Lega quindi io sto ho scelto la Lega guardando a quello che succederà e preoccupato di quello che poteva succedere in Sicilia con una Lega debole Forza Italia però c'è stata una dichiarazione di Miciche in questi giorni quindi la presenza di Salvini adesso questo nuovo gruppo della Lega siciliana che si è formato inevitabilmente si parla delle prossime regionali della prossima candidatura trovare un candidato di riferimento per le regionali Miciche ha detto se non dovessimo più candidare nello musumeci il candidato toccherebbe a Forza Italia Tu sai benissimo facendo il giornalista che è un discorso e il dibattito quotidiano se vuoi guardare quella che è l'evoluzione politica la devi spogliare dalle esigenze del momento e quello che vedo è che Berlusconi ha fatto la federazione con la Lega che l'Udc a livello nazionale la Lega sta costruendo un percorso che inevitabilmente a prescindere dal linguaggio che viene utilizzato la cosa che io ho puntato su contribuire a costruire questo percorso sarà il polo moderato del centrodestra non è che io oggi di punto in bianco ho cambiato posizione sulle mie cose ho dato valore più ad altri aspetti che ad altri Cosa non condividi delle cose della Lega le cose dette da Sardini di alcune linee politiche che vengono Ha un linguaggio efficace un po' terra-terra che però viene compreso l'esperienza del centro-sinistra e la mia formazione culturale che è la cattedra Sturzo i corsi di formazione di padre Vintagute perché poi ci formiamo a 18 anni a 20 anni quella è la formazione che ci portiamo e quella è quella che rimane però non c'è dubbio che io credo fermamente che oggi la Sicilia non può stare fuori dal partito di maggioranza del centro-destra che si sta trasformando sempre di più da un partito presente solo al nord in un partito centrale però Salvini ha detto nella nota che ha ufficializzato il vostro passaggio saluto l'arrivo degli onorevoli che ha citato anche te che condivideranno i valori e i principi della Lega sì i valori e i principi della Lega non solo li condivideremo perché comunque la Lega è un partito e ti devo dire da Renziano hanno votato la riforma Buonafede quindi ci sono delle regole di partito ma io porterò me stesso porterò il mio ognuno dei deputati che è passato con questo accordo con Salvini ha accettato una sfida ma la sfida l'abbiamo accettata in due cioè l'ha accettata Salvini e l'abbiamo accettata noi non è che non ho posto diciamo le mie domande o le mie preoccupazioni rispetto a questo processo di trasformazione quindi come c'era ti faccio un esempio abbiamo votato in aula diciamo su spinta su richiesta di Salvini il fatto di votare per il referendum sulla giustizia io sui referendum della giustizia mi ritrovo pienamente in questa battaglia fatta dai radicali e dalla Lega mi è sembrato strano non tanto i 5 Stelle che hanno votato contro ma il PD che si è astenuto non c'è il partito ideale in cui stare cioè un partito in cui tu porti il tuo contributo culturale prima che i tuoi voti e contribuisci a una costruzione di un progetto fino a oggi la Lega in Sicilia era un partito appunto per le sue connotazioni per la sua debolezza che era appannaggio e sottoricatto da Forza Italia e dagli altri federati oggi ci assumiamo assieme a Salvini la responsabilità di cambiare il quadro del centro-destra e di avere anche la Lega una classe dirigente che ed è quello che mi ha portato a fare questa scelta che da qui a un anno proverà a dare il proprio contributo per riscrivere le priorità della Sicilia del nuovo centro-destra che è quello che sta facendo più un'evoluzione rispetto al centro-sinistra che invece sta facendo un'evoluzione semplicemente ma sempre sugli stessi temi di un abbraccio con i 5 stelle e quant'altro pur di sopravvivere tu hai ricordato qualche minuto fa il tuo inizio democrazia cristiana mi viene spontaneo ma l'onorevole Foti che ti ha detto di questa tua scelta l'onorevole Foti che ormai ha 86 anni e gli faccio anche gli auguri di buona guarigione l'onorevole Foti con cui ho un rapporto umano prima che politico mi ha detto non voglio darti consigli perché comunque il futuro è tuo non è più mio qualsiasi scelta fai però se vuoi è un po' sicuramente l'ha condivisa hai sentito Vinciullo? ma guarda io ti dico che conosco Enzo conosco è un massimo rispetto anche di chi c'è entrato prima di Enzo nella Lega conosco Paolo Gallo il mio giudizio sulle persone rimane lo stesso a prescindere con Enzo abbiamo un modo diverso di fare politica però la cosa che mi io a questo mi riferisco i rapporti umani sono consolidati da tempo i rapporti umani ci sono questa convivenza politica ma io sono entrato nella Lega non per fare la Lega di Vinciullo e di Caffeo io sono entrato nella Lega per dare una proposta politica a tutta quella classe dirigente che vuole scommettersi per costruire un centro-destra diverso e ritiene di non farlo nei partiti federati alla Lega ma ritiene di farlo nel partito originale per cui io entro con l'obiettivo di costruire una nuova classe dirigente come ho sempre fatto in ogni partito a cui ho aderito e non ho niente da dimostrare perché la mia storia parla di qualche anno fa mi rifaccio poco fa hai ricordato Sturzo qualche anno fa credo nel 2017 non voglio errare o abusare troppo della mia memoria uno dei congressi della Lega ebbe come slogan liberi e forti cosa c'è di cosa pensi di ritrovare di disturzo dentro la Lega dentro questi valori l'importanza dei territori l'importanza di un partito che al nord qui non c'è lo dobbiamo costruire sta a noi costruirlo bene sta a noi lanciare la sfida che abbiamo accettato noi con Salvini a quella classe dirigente che oggi sta ai margini e che vuole scommettersi di una nuova proposta però ci sono le sezioni ci sono quei meccanismi di partito come l'ho definito Salvini nell'intervista a Palermo noi non siamo un partito di carta siamo un partito strutturato che qui non c'è o c'è ma va strutturato meglio e che può essere la proposta politica per quei siciliani che non sono contenti di com'è oggi combinata la Sicilia e vogliono accettare la sfida di costruire nel centro-destra un partito che parla a quei settori che oggi non hanno interlocutori quando io penso ti faccio due esempi uno del perché non posso stare nel centro-sinistra se tu pensi che il ministro Costa non riceveva gli interlocutori della nostra zona industriale perché per loro è un fatto negativo interloquire direttamente con le imprese ma dovevano parlare via mail penso che questo basta per capire perché non sto da quel lato non mi piace un approccio dei rapporti con il sistema economico vecchio stampo più da prima repubblica quasi di ricatto io spero di portare all'interno della Lega una visione delle potenzialità che ha questo territorio potenzialità che servono anche al nord l'Italia e l'Europa stessa è così piccola che non può reggere un sistema in cui ognuno pensa a se stesso secondo me la Sicilia e penso che Salvini questo l'abbia capito sia centrale nelle dinamiche di sviluppo dell'intero paese certamente voglio dire questo sviluppo a oggi non c'è e non per colpa della Lega che fino ad oggi non c'è stata abbiamo una classe dirigente regionale che oggi ti faccio un esempio tutti i fondi europei saranno pagati da dopo ferragosto ed è da quattro mesi che la regione non paga siamo in una situazione talmente drammatica che rischiamo di morire di buona politica a parole ma che ne fatti non affronta i temi quello che io mi aspetto che la Lega possa svolgere come ruolo è di essere la punta più avanzata di un centrodestra che parla di innovazione che parla di ricerca che parla alle imprese che sia un interlocutore serio serio significa anche la possibilità di portare sul tavolo nazionale i temi della Sicilia hai parlato della zona industriale però mi è venuto in mente quello che accadde qualche anno fa con il precedente prefetto se tu ricorderai bene dei blocchi davanti alla zona industriale davanti alla portina di Lucoil l'intervento dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini che in qualche modo fece da sponda alla Lucoil ai russi e al prefetto dell'epoca non venne vista molto bene questa interferenza così diretta con i russi soprattutto non c'è dubbio che io preferisco molto di più l'operato del nuovo prefetto rispetto al vecchio non penso che questa sia una dinamica legata al fatto che siano russi come ritengo e spero che non sia così che fino a oggi la zona industriale la nostra zona industriale non sta trovando per motivi secondo me ideologici una risposta al tema della transizione energetica nel settore petrolifero perché quando tu hai da un lato le casse integrazioni e un piano di investimento di quasi 2 miliardi di euro e non riesci ad avere un'interlocuzione con il governo nazionale noi rischiamo di sottovalutare l'aspetto che non si possono dismettere dei settori produttivi io sono per l'energia alternativa per tutto ciò che vuoi ma la transizione va guardata non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista della sostenibilità economica e della sostenibilità sociale perché a fare i puri e gli ideologici noi ci siamo ritrovati a mancare alcune scelte strategiche che oggi ci mettono e rischiano di rimetterci ancora di più nelle condizioni di dover dipendere dall'estero senza migliorare le condizioni globali dal punto di vista ambientale ma tu te lo immagini di Prospero cosa significa si ragusa senza la zona industriale e oggi corriamo un grosso rischio e io non potevo stare con tutta la stima che continua ad avere per Renzi a per chiedere un appuntamento per porre il tema delle questioni del polo petrolchimico a sentirmi dire per ora devo scrivere il libro per ora devo promuovere il libro lo hai avvisato direttamente di questo passaggio alla Lega con la reazione gestuale devo dire che Renzi sapeva non ho interlocuito io stesso ma Renzi sapeva di che avremmo fatto questo passaggio e ti devo dire io mi sono rimasto molto deluso e la mia preoccupazione principale è della delusione vedi il progetto renziano non è andare a fare la lista con il patto dei paccheri tieni presente Prospero che io ho vissuto un anno e mezzo in aula senza parlare perché ho avuto due deputati del mio gruppo che avevano un assessore che avevano una posizione poco chiara e non concordata oggi questa scelta è dovuta anche al malumore perché a un certo punto ho capito che non ci credevano i miei colleghi stessi al progetto renziano per una dinamica regionale perché noi potevamo essere in condizione di fare una lista e in quel caso io non me ne sarei andato se vedevo una battaglia anche rischiosa ma di ideali ma siccome ho visto che si era ridotto a fare una scelta per i seggi e per salvarsi il sedere io ho pensato pure di lasciare la politica ti devo dire devo ringraziare che mi è stata posta questa sfida di costruire in un altro campo un progetto politico che apre una nuova classe dirigente ai professionisti e a chi oggi diciamo vuole accettare la sfida di ritornare a fare politica e l'ho accettata quello che sarà il risultato a novembre lo vedremo a novembre cioè non mi interessa senti però c'è chi dice che comunque questo passaggio è un po' come il gratta e vinci vincere è facile non penso non penso tra le cose io ho sempre detto a chiunque ho incontrato che non si può vivere nel limbo e non si possono fare scelte per sopravvivere bisogna guardare al futuro e avere il coraggio di fare delle scelte e di rischiare io per un anno e mezzo ho fatto l'attendista ho aspettato che succedesse qualcosa però non succedeva per cui devo dirti la cosa più dolorosa è sapere che molti amici non mi seguiranno ma non per per il contributo elettorale ma per il rapporto umano e questo mi responsabilizza ancora di più per dimostrare che la mia scelta è giusta non perché vinco ma perché continuerò a fare le battaglie per il territorio senti nella fotografia in pizzeria non ti ho visto noi quella era una riunione della direzione regionale dei segretari provinciali i rappresentanti provinciali della Lega a cui era giusto che io non ci fossi perché formalmente ancora io non avevo aderito per cui io ho massimo rispetto ti ripeto per chi c'è e spero che assieme riusciremo ad essere all'altezza della sfida che ci viene posta che è quella di costruire una nuova classe dirigente che non può essere caffè o vinciullo caffè o vinciullo hanno il compito di favorire la costruzione e l'apertura del partito ti pongo le ultime due domande molti giornali giornali regionali molti giornali nazionali parlano di questa azione di Salvini in Sicilia e parlano un po' tutti dell'eccessiva presenza di rinviati a giudizio indagati partendo da San Martino come si vive anche questa realtà io ti posso dire come ho vissuto personalmente la scorsa campagna elettorale dove sono uscito nei tweet di Battista e su Repubblica per una cosa inesistente da cui da tre anni ho la richiesta di archiviazione come ti posso dire pure che a volte che sicuramente ognuno è responsabile delle proprie scelte ne paga in prima persona se è fatto qualcosa io ho piena fiducia nella giustizia però vedere uscire faccio un esempio su Luca San Martino alcune notizie vecchie giusto giusto oggi perché non è una notizia che già si sarà da sette mesi che nel 2022 ci sarà un'udienza siamo consapevoli abbiamo fatto questa scelta consapevoli che non siamo comodi al sistema di potere che c'è in Sicilia per cui abbiamo messo in conto di tutto però o la politica la fai e ti assumi la responsabilità delle tue scelte e ti assumi i rischi per dare risposte sul territorio per costruire una nuova classe dirigente oppure ti stai a casa se devi essere se ti devi preoccupare che ti arriva l'avviso di garanzia che c'è la speculazione sui giornali e devi fare politica solo per garantirti la rielezione allora per me non vale la pena so di avere fatto una scelta che cambia gli equilibri e quindi rompe gli schemi più nel centrodestra che nel centrosinistra e sicuramente non mi aspetto gli applausi mi aspetto e sono consapevole che chi sta facendo questo passaggio conosce a fondo la Sicilia perché per governare la Sicilia bisogna conoscerla bisogna essere in grado di assumersi i rischi e di mettere in campo delle proposte e delle soluzioni migliori ma se ti preoccupi che gli altri siccome gli hai tolto l'osso è ovvio io mi aspetto di tutto in questa scelta ma l'ho fatta perché fare politica ha un senso se tu rischi in prima persona e rischi per quello che è il tuo concetto di politica io non posso continuare a fare politica guardando quello che stiamo vivendo prospero perché anche la rabbia che c'è sui social è il termometro chi fa politica dovrebbe leggerla non giudicarla come il termometro di una società che è ai minimi termini e che vive una condizione di crisi in cui da un lato in cui è rischiosissimo noi siamo su un baratro da un lato abbiamo il reddito di cittadinanza da un lato abbiamo le imprese che non trovano persone per lavorare per le stagioni estive cioè non possiamo già noi stiamo pagando i prezzi di una prima repubblica che è considerato il sud solamente uno stipendificio si devono prendere voti dando i posti oggi questo non è più riproponibile come non è più riproponibile il reddito di cittadinanza se va cioè va migliorato come strumento io però guardo e ti posso dire che questa esperienza la vedo anche alla luce di tutte le esperienze che ho fatto compreso quello di fare il capo di gabinetto al comune di Siracusa noi abbiamo un territorio attrattivo nonostante noi per cui oggi la cosa che mi fa più male è vedere una politica che neanche prova a mettere in campo una visione io con molta umiltà darò il mio contributo affinché la Lega dia una scossa a questa Sicilia e mette in campo una proposta organica che vede la Sicilia centrale più di prima ma i siciliani devono fare il proprio non è che devono aspettare che qualcuno lo aiuti io non sono per riproporre l'assistenzialismo io sono affinché gli imprenditori vengono messi in condizione di fare gli imprenditori e di non subire le angherie della politica e delle amministrazioni questa Lega io ho scelto di dare il mio contributo i social in questi giorni li stai seguendo perché ovviamente contro di te contro Vinciullo ovviamente non ci sono commenti teneri prospero io devo dare conto alla mia coscienza al fatto di essere classe dirigente e fino a quando in questo paese una classe dirigente segue i social e segue la reazione immediata e la pancia delle persone a mio avviso non farà il bene del paese né il bene della Sicilia per cui se io dico queste cose non posso preoccuparmi ti sto dicendo che sono consapevole che molti amici non mi seguiranno però io voglio stare fino a quando continuerò a fare politica devo fare le scelte giuste per la mia terra bene io ti ringrazio ti ringrazio innanzitutto per avermi concesso di essere assolutamente libero nelle domande da porti gli appunti probabilmente non sono neanche serviti perché questa questa chiacchierata così normale tranquilla libera senza nessun tipo di rete a questo punto ci sarebbero anche le battute da fare prima che fai le battute una cosa fammela dire non è che io non do peso non solo non agli insulti sui social e quant'altro ma alla percezione quando entri nei bar quando gli amici che incontri so di aver messo in difficoltà tanti amici che hanno fiducia in me però a me hanno insegnato tu hai parlato prima non avevo le foto hanno insegnato che le scelte si prendono in solitaria ti devi chiudere devi analizzare qual è la scelta giusta e la fai poi ora abbiamo un anno la sfida è avere un anno più di un anno prima delle elezioni regionali per dimostrare i motivi e per dimostrare che è stata la scelta giusta e io ti ringrazio per avermi fatto questa intervista perché questo non significa che non perché io do profondo valore al senso politico della scelta che ho fatto ed è giusto che io la spieghi io passerò l'estate a incontrare i miei amici e a spiegargli i motivi non a convincerli di seguirmi come passerò l'estate a incontrare chiunque che sarà disponibile a farlo e a spiegare spero che non ti ritroveremo in un papete siciliano no 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 né il fisico né ognuno ha le sue caratteristiche rimango il Giovanni di sempre per sentire sull'ampolla ah no intanto andrai in vacanza anche a Ponte di Legno no 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 io senti sull'ampolla corre voce essendo tu e Vinciullo ormai qui chiudiamo in maniera molto così ecco molto leggera c'è un problema adesso di gestione delle ampolle a Siracusa c'è chi gli dà il canale Galermi a Vinciullo e a te il canale Mamma Iabbi hai preferenze particolari io spero di poter riempire un'ampolla alla fine del canale Galermi perché significa che gli agricoltori avranno l'acqua ha due anni che combatto su questo tema e sentire la dietriba sei il democristiano nell'anio perché sei riuscito a cogliere anche scusami tu me l'hai posta col canale Galermi non ricordavo io spero di io volevo dare il Galermi a Vinciullo così allora io spero che fra un anno e mezzo noi possiamo raccogliere l'ampolla al canale Galermi alla fine e possiamo anche raccogliere l'ampolla di acqua nel porto dove c'è il depuratore di 6-8 e poterla bere tranquillamente perché oggi non si può fare grazie Giovanni Caffèo buon lavoro grazie naturalmente ci ritroveremo più avanti grazie anche a tutti i colleghi che hanno ascoltato e hanno seguito questa intervista grazie a tutti i colleghi